santuario progetto cuori liberi rifugio per animali liberi abbiamo appena avvistato un quantitativo incredibile di forze dell'ordine in arrivo l'assalto è cominciato la fuori c'è la violenza la fuori stanno picchiando e qua loro cercano il cibo perché è ora di colazione gli basta? gli basta questo? questo è un giornale tragico questo non dovrebbe mai succedere. Ci sono entrato in un paese di pazienza dove i animali avevano già stato salvato da un sistema terribile. Ci hanno cortato le porti, hanno distruttato anni di lavoro e sacrifici. Abbiamo cercato di resistere ma infatti c'erano tantissimi. Ci hanno usato la violenza. Ci hanno giocato molte persone. E dopo aver distruttato la parte del sanctuary i vetti arrivarono e chiamato le 9 pizze che avevano che avevano davvero felici. A presto. A presto.